ok ci siamo eh senti vuoi dirmi cosa mi chiedi no? abbiamo parlato libero giusto? sì sì ti chiedo all'inizio sicuramente ti chiedo chi sei e da dove, cioè come è iniziata la tua avventura praticamente e chi cazzo ne sono? ma che mi vai chiedendo? allora arrivo eh sì sì oh ma che bello fantastico c'è un po' di specchio eh qua sì sì va bene ma è pure in quadratura che io aspetta un po' più così che sennò c'è più stipite della porta adesso cambio la luce che diventa più figa che è questa guarda eh siamo perfetti siamo perfetti questo è più rosso questo è più blu forse questa sì va bene eh l'occhiale riflette un po' purtroppo però la posso abbassare un po' aspetta eh così? sì allora mi senti tu mi senti? ti sento ti sento perfetto ti sento perfetto tu stai già registrando io allora anche in fuorionda vuoi fare dei rischi? 20 secondi 20 secondi 20 secondi dai 20 secondi sì ma non importa non importa tanto ci sono alcune parti che sono fantastiche nei fuorionda poi tanto li vediamo e li vediamo insieme prima di pubblicare no ma tu pubblichi tanto non dico mai cose troppo politicamente scorrette quasi mai senti no l'unica cosa allora io guardo te così dimmi se sono in asse con la camera se va bene se funziona sì 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 sei leggermente spostato ma va bene non è un problema allora se volete spostato esatto perfetto perfetto esatto questa porca che fa cagare la chiudo? no va bene non importa non importa va bene come non importa? chiudila 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 lo sapevi che l'avrete hai fatto apposta vado chiudo la finestra e iniziamo sì 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 va bene va bene oh ciao 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 Grazie a tutti.